Il vero e proprio calendario del 50 per 50 è inteso non solo come successione di eventi ma come focus che verrà messo in particolare su ogni comune nelle 50 settimane, 52 settimane dell'anno. Quindi è uno strumento, uno strumento anche comunicativo della Capitale Italiana, ma ci serve un po' a scandire il tempo di quella che sarà l'anno del Capitale, darci l'appuntamento settimana per settimana nelle varie località, iniziare anche ad inquadrarle dal punto di vista della distanza, dei collegamenti, alcune informazioni che vengono date all'interno del calendario e il calendario stesso di cui oggi distribuiamo una prima stampa si arricchirà di settimane e settimane, di mesi in mesi anche nelle future edizioni, dei dettagli e delle iniziative che i comuni andranno realizzando e comunicando. Già oggi siamo insieme a tanti amministratori che sono qua per raccontare appunto il focus della loro settimana in particolar modo e per dare questa idea di insieme che è l'avvio di questo viaggio importantissimo che è la Capitale 24.